Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un briefing sulla situazione ciclica, sull'analisi tecnica dei mercati delle criptovalute partendo come al solito da Bitcoin e poi passiamo anche a dare un'occhiata sia a Ethereum sia a Binance Coin perché oggi è una giornata in cui volevo proporvi una view alternativa per quella che è la visione ciclica di questo mercato anche per comprendere un po' meglio quello che è l'attuale situazione, quello che sta succedendo negli ultimi 4-5 giorni dove in effetti Bitcoin ha tentato di rompere e di fare una closer di sopra della famosissima ormai resistenza che indico da più di un mese a 12.100, partiva dagli 11.700, quindi è un'area di resistenza tra gli 11.700 e i 12.100 a livello settimanale vi avevo parlato di questa cosa la scorsa settimana ma Bitcoin non è riuscito a salirci sopra neanche in close di questa settimana, quindi di nuovo rimane una resistenza incredibile, molto molto forte ragazzi ma attenzione perché le speranze non sono perse assolutamente, anzi vedremo in questo video come in realtà una view ciclica differente che quella che volevo proporvi oggi, farvi vedere oggi ci porta anche un'idea diversa di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni quindi prestate attenzione a questo video sto condividendo quest'analisi e la sto analizzando nella Trading On Academy con gli utenti premium già da una settimana l'abbiamo valutata insomma anche per comprendere questa fase di riposo e oggi ne volevo parlare anche con voi, volevo rendervi partecipi di questa cosa quindi vediamo prima la ciclica, poi facciamo l'analisi tecnica con i livelli per capire quello che sta succedendo partiamo subito dall'analisi ciclica, quando abbiamo fatto le analisi vi avevo indicato ragazzi da un punto di vista ciclico come questo minimo del 28 di luglio fosse il più indicato diciamo come una chiusura ciclica cosa ho fatto in questo caso? ho spostato la cross ciclica, la sto valutando spostata al 17 luglio per due motivi primo, tecnicamente il minimo del 17 luglio è più basso ragazzi di quello del 28 è anche vero che guardare queste piccole oscillazioni di dollari su bitcoin non ha un grande valore, non ha un grande risultato perché insomma alla fine ragazzi parliamo veramente di inezia e poi con la volatilità di questi mercati però se dovessimo applicare la teoria ciclica in maniera effettivamente precisa quindi proprio come le basi teoriche dovremmo dire che il ciclo è stato concluso il 17 ma non è solo questo che mi ha fatto pensare di rivedere un po' questa analisi è anche e soprattutto Binance ragazzi perché la coin di Binance vedete ha fatto il minimo il 17 qui di luglio mentre il minimo del 28 è decisamente più alto quindi in questo caso non è possibile considerarlo come un doppio minimo non è possibile neanche considerarlo come facente parte del ciclo precedente quindi essenzialmente il minimo insomma fatto un po' prima di Binance Coin mi ha un po' fatto riflettere la stessa cosa ragazzi Ethereum perché vedete i cicli di Ethereum sì c'è un doppio minimo in questo caso ma il doppio minimo di Ethereum ragazzi riguarda Tittura il 10 agosto vedete quindi non il famoso 28 di luglio quindi un po' devo essere sincero ho rivisto la view di ciclica di Bitcoin appoggiando e magari valutando anche questa ipotesi che il ciclo mensile sia iniziato il 17 di luglio se così fosse ragazzi siamo dove? in questo momento siamo nella close del ciclo mensile di Bitcoin ed è anche una close abbastanza blanda se devo essere sincero vedete anche la M disegnata abbastanza semplice anzi vi faccio il mio classico disegnino guardate un po' la M è abbastanza semplice anche da vedere quindi la classica fase ciclica è abbastanza visibile in questo caso allora il problema poi come sempre è dove lo chiude questo ciclo? allora ha fatto un minimo l'11 quindi nella giornata di ieri con 25 barre se fosse questo un ciclo mensile sarebbe sufficiente perché il ritmo, il battito del mercato in questo momento di Bitcoin esattamente è intorno a questo numero di giorni quindi 25 giorni è anche vero che questo è un ciclo rialzista un ciclo anche che ha avuto una certa forza discreta forza, non tantissima però neanche molto blando non è un ciclo intra-bar quindi intra-range ma è un ciclo comunque rialzista quindi potrebbe in realtà anche allungare di qualche giorno quindi attenzione comunque perché il segnale di chiusura ciclica al momento non è avvenuta ma se appoggiamo questa tesi, questa ipotesi comprendiamo anche come questa fase di ribasso potrebbe essere in effetti pensata come una fase di ribasso di chiusura ciclica e questo cambia un po' la logica di quello che sta succedendo quindi non siamo nel pieno di un ciclo in sviluppo e quindi in questo caso sarebbe da considerare un po' debole il ciclo ma siamo nella close mensile e quindi in questo caso il ciclo diventa da considerare forte perché per essere una close mensile queste giornate di ribasso sono tutto sommato molto blande considerate anche un'altra cosa che da un punto di vista di analisi weekly vi faccio vedere insomma giusto per intenderci la settimana scorsa adesso qui insomma dobbiamo ringrandire ecco un po' la settimana scorsa è stata la close più alta di bitcoin di tutto il 2019 perché è vero che ha fatto un massimo superiore ragazzi ma a livello weekly non ci ha mai chiuso lì quindi la settimana scorsa ha fatto un massimo in chiusura rispetto a quello che è l'analisi settimanale quindi questo va anche considerato perché non è che dobbiamo solo guardare comunque il daily quindi in sostanza questa settimana il mercato fa un nuovo massimo da un punto di vista weekly anche sul grafico o da un punto di vista del 2019 quindi per l'anno 2019 quindi il mercato rimane in trend di razza molto forte da un punto di vista di analisi tecnica a questo punto se abbracciamo un'ulteriore ipotesi che quello che stiamo vedendo in questo caso è una chiusura ciclica mensile ragazzi a questo punto possiamo un po' diciamo essere un po' più ottimisti sono un periodo che sono un po' ottimista ragazzi è meno short sui mercati ormai lo avete capito ma credo che sia così però ovviamente ci vogliono poi segnali dal mercato allora il primo segnale che ci fa propendere per un'analisi di questo tipo e per una ripartenza che poi magari valuteremo con calma sarebbe il superamento dell'aria di resistenza dei 12.100 quindi è inutile che stiamo sempre a fare ipotesi perché alla fine poi i prezzi ragazzi devono arrivare qui se i prezzi non mi arrivano lì quindi superare e chiudere intanto daily ragazzi intanto daily poi settimanale sopra i 12.100 parliamo del nulla perché il problema è che alla fine al di là dell'analisi ciclica che ci può dare un occhio su una posizione un'idea ragazzi quello deve fare cioè ci sta indicando come noi dobbiamo interpretare questo momento questa fase che cos'è quindi avere paura o non avere paura dovete stare più rilassati e soprattutto qual è la direzione che dobbiamo prendere tentare di andare short o tentare di andare long beh io in questo caso ragazzi con l'ipotesi di una chiusura mensile se fosse così appunto ragazzi se non è così poi dobbiamo rivedere questa analisi se fosse così io starei attento ad andare short io cercherei più un'operazione al rialzo è quello che in effetti sto facendo già da qualche giorno allora esistenza 12.100 rimane invariata poi vedete la famosa trend line ormai insomma conosciuta ne ho parlato tantissime adesso vi faccio anche una cosa ve la ingrandisco se ci riesco ragazzi sono dall'iPad eccola qui questa trend line ragazzi è uno spartiacque tra un mercato che sta ancora lateralizzando e una ripresa di un trend completamente differente c'è anche da dire che ragazzi le trend line dinamiche a me piacciono poco per una serie di motivi sono anni e anni di trading con molta esperienza in mercato e il mercato insomma spesso e volentieri le trend line di questo tipo quindi quelle diagonali diciamo le rispetta sì ma poi fino a un certo punto vanno considerate in un certo modo ecco quindi sono discorsi molto complessi a fare su YouTube prendiamola con le pinze molto più importante superamento della resistenza a 12.100 dollari in close ragazzi prima daily poi weekly lì cambierebbe completamente la view quindi questa è l'idea che mi attendo guardiamo poi invece Ethereum ragazzi Ethereum è debole è debole i mercati devono salire assolutamente al di sopra di questi livelli di massimo vi avevo già indicato questi livelli qui ragazzi che sono poi intorno ai 240 se però ragazzi Ethereum anche come Bitcoin ha fatto a questo punto un ciclo mensile di accumulazione lo potremmo identificare così che poi è un ciclo è un ciclo che è cortino e va esattamente da qua ragazzi vedete da questo punto quindi il 16 di luglio fino alla 10 di agosto vedete 25 giorni se questo ciclo mensile viene confermato anche su Ethereum a questo punto potremmo valutarlo come un ciclo mensile di eventualmente accumulazione o distribuzione come lo facciamo a capire se rompe sul breakout il livello di 240 questo è un ciclo accumulativo se rompe invece i 190 giù attenzione io chiuderei assolutamente tutte le posizioni in quel caso di medio-lungo periodo su Ethereum perché va rivista la view quindi poi magari è complicato magari il mercato non scenderà si fermerà sul supporto ai 170 però sarebbe una situazione pericolosa io preferirei diciamo uscire dal mercato e poi ripensare la struttura del mercato stesso ma anche Ethereum conferma questa view ciclica al momento valutabile sui 25 giorni come un ciclo mensile ovviamente la conferma dei prezzi avverrà solo sopra 240 e per quanto riguarda Binance stessa identica cosa ragazzi solo che Binance ha dei cicli particolari sta facendo un triangolo e va valutato così come tale guardate insomma adesso insomma vi disegno il triangolino col pennello quindi vi faccio vedere insomma questo più o meno è quello che sta facendo Binance dove andrà questo è un ciclo di barra di congestione in sostanza dove andrà poi lo decide alla breakout di questo triangolo ovviamente sopra i 32,7 ragazzi si va long e quindi il mercato torna in trend rialzista al di sotto invece di questo minimo intorno ai più o meno qui ragazzi ecco lo vedete qui intorno ai 26 poi si allunga anche il 25 qualcosa quindi in questa zona il mercato diventa pericolosissimo quindi anche lì su Binance attenzione ok ragazzi allora questa è una view nuova su Bitcoin vi ho detto quello che penso le esistenze sono sempre le stesse qual è il supporto di Bitcoin nel brevissimo esisterebbe 11.100 10.900 questa linea qui però in realtà ragazzi questo non è un vero supporto se questa fase ciclica è una cosa mensile perché il mercato lo può rompere tranquillamente per fare una un spike quindi una shadow inferiore e andarmi proprio a chiudere il ciclo mensile starei attento a quel livello di prezzo perché il mercato potrebbe fare quello che ha fatto qui per esempio vedete in quest'area in questo modo qui ecco quindi una shadow fa un fake break in sostanza e poi se ne va quindi attenzione attenzione perché in quel caso potrebbe arrivare tranquillamente a 10.500 con un classico flash crash diciamo chiamiamolo così e poi andare a chiudere il ciclo va bene ragazzi per oggi è tutto attenzione tenete d'occhio i livelli 12 e 100 sempre sempre su Tokyo ok ciao a tutti a presto grazie a tutti